Ciao a tutti appassionati di anime manga, sono Alex, come sempre vi invito a seguimi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche dal mio gruppo Telegram per stare sempre ragionati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare la recensione di Boichi Short Stories, questo è volume 1, questo è volume 2, entrambi editi da Planet Manga, prezzo 9,90€ cada uno. Sono storie brevi di Boichi, disegni pazzeschi, tutti abbastanza sci-fai tranne un paio, che siccome sono più fantastiche, una storia particolare sembra una fiaba del Medio Oriente, però i disegni di Boichi sono inconfondibili, il suo tratto è riconoscibilissimo ovunque, guardate che disegni. Ci sono tavole magari un po' più del primo Boichi, quindi non è ancora quel tratto che è così adesso. Si vede già, però non è così come quello che è adesso, però ci sono delle tavole, ci sono storie drammatiche, divertenti, fantascientifiche. Sono 14 storie divise in due volumi, ci sono storie che mi sono piaciute davvero molto, devo dire. Wow, davvero, è una storia che il tonno è scompasso dal mondo e deve andare a cercare su un altro pianeta alieno qualcuno che gli riporti il tonno al mondo. Guerre apocalittiche, distruzione di massa, viaggi nell'universo, creature fatte di magma, viventi, poi disegni pazzeschi. Comunque ci sono delle tavole che hanno disegni pazzeschi e devo dire che mamma mia, cioè davvero è fatto molto molto bene. Soprattutto per chi ancora non conosce Boichi, secondo me è un buon modo per approcciarsi all'autore e per capire che livello sia. Perché uno che non ha mai letto, fidatevi, che se legge uno di questi volumi poi ricerca tutte le sue opere. Tipo questa ragazza qua è inconfondibile perché mi ricorda parecchie altre ragazze che ha disegnato Boichi. Boichi tra l'altro è uno dei pochi autori che hanno in casa sia la Planet, sia la Star Comics, ma sia anche la J-Pop. Quindi davvero, tutti e tra le case hanno un manga di Boichi. Ecco, e quindi devo dire che è super apprezzato e mi piace davvero. Mi è piaciuto davvero tanto queste, ovviamente ci sono storie più belle, altre meno belle. Però comunque tutte di livello, tutte con una trama davvero ben fatta. Soprattutto chi piace lo sci-fi, la fantascienza, secondo me mi piacerà molto. Ecco, lo apprezzerete davvero tanto. Ma soprattutto anche se amate Boichi è anche giusto, secondo me, prendergli queste sue opere. Ripeto, ci sono molte storie drammatiche. Molte anche per riflettere sui cambiamenti climatici. Cosa l'uomo sta portando al pianeta Terra. E come lo sta distruggendo praticamente il pianeta Terra. E devo dire che è fatto davvero molto, molto bene. E ci sono pure appunto alcune storie che ti fanno riflettere molto. Quindi ci sono alcune storie che potrebbero anche essere reali. Però la maggior parte è tutta la fantascienza. Con un occhio di riguardo a cosa sta causando l'uomo sulla Terra. E a causa dei cambiamenti climatici. Cosa sta portando pure la caccia intensa. Siva, a particolare qua abbiamo detto il tonno. Ma può essere anche le balene che stanno facendo i giapponesi. O comunque altri animali. Quindi bisogna avere cura del pianeta Terra. Quindi qui comunque mescola elementi naturali con elementi scientifici. Elementi fantascientifici. Robot, ingegneria biomeccanica. Prende spunto anche dalla religione cristiana. Con angeli, demoni, pianeti alieni. Alieni in sé. Viaggi nell'universo. Poteri esper. Quindi davvero ci sono un sacco di storie per tutti i gusti. E quindi io ve lo straconsiglio. Davvero. Per tutti in generale sia per chi ama voici sia per chi non lo conosce appunto per conoscerlo. Ma anche chi apprezza i bei disegni e vuole comunque in un volume leggere più storie ecco. Magari non vuole impegnarsi in un manga lungo con tanti volumi ma questo ti trova davvero parecchie storie che sicuramente qualcuna ti piacerà di più degli altri. Sicuramente una che ti piace lo trovi di sicuro. E ripeto ci sono alcune storie che ti fanno riflettere e pensare su cosa l'uomo sta causando il pentaterra e come potrebbe essere la vita in futuro. Cose fatte scientifiche però non così proprio irreali. Cioè l'uomo che sta causando distinzione l'unico modo è salvare il DNA, nascondolo su una torre alta e lasciare che la terra si estingua e sperare che qualcuno con mezzo di questo DNA proveniente da fuori riporta in vita la razza umana. E quindi davvero storie drammatiche che comunque ti fa riflettere. Io vi ringrazio, se il video è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like e noi ci vediamo ai prossimi video.